Oggi è un giorno speciale che va a suggellare il nostro premio TVR Teleitalia 7 Gold che è stato il primo dopo l'era della Valle dal 2004 e abbiamo indetto per il settore giovanile della Fiorentina i migliori insieme all'allenatore e il migliore della prima squadra come potete vedere poi quando prendete la targa il primo è stato Pazzini nel 2004 poi c'è stato Toni, doppiamente Frey, Prandelli, Montella tutti i giocatori migliori della Fiorentina quest'anno è toccato a voi compreso anche l'anno scorso Borca Valero il nostro grande calciatore e il futuro qui con Federico Chiesa intanto due parole sul premio prima che la nostra Alessia vi consegna il premio che i nostri Ponzo hanno fatto per voi Ringrazio assolutamente per questo premio ho visto prima, ho letto i nomi sono importantissimi l'anno scorso ha vinto Borca quindi sono ancora più felice di vincerlo quest'anno io Borca Valero? no, anche io ringraziare per il premio anche se dell'anno scorso però sono contento di averlo vinto e ora lo vince lui che è il futuro della Fiorentina domanda sempre inerente al settore giovanile ai nostri giovani chi meglio di Federico Chiesa che l'anno scorso era nella primavera ha fatto un boom eccezionale due parole sulla tua annata la prima esperienza in Serie A e poi anche sulla nazionale perché hai conquistato sei partito dall'Under 19 quest'anno farai parte anche dell'Under 21 di Mister Di Biagio e ti andai a giocare un europeo che penso per te sia una vetrina enorme è stata una bellissima stagione di forti emozioni è stata ovviamente è stata la mia prima in Serie A quindi sono felicissimo è stata una stagione positiva peccato per i risultati sportivi però ci aspetta un futuro importante davanti a noi e per la nazionale sono contento io dall'Under 19 sono passato in poco più di otto mesi dall'Under 20 all'Under 21 quindi spero di essere convocato per l'europeo e di giocare di vincerlo anche e questo è quello che mi auguro senza dimenticarsi anche che Federico Chiesa è stato convocato anche da Ventura nello stage per ora però sicuramente può fare parte anche della nazionale agli facciamo tanti auguri Buon Camerano invece voglio sempre sui giovani volevo da te un messaggio a questi ragazzi che intraprendono perché come sai ne arriva uno su cinquemila in calcare campi della Serie A e te meglio di te che hai vinto nel 2004 con l'anno del 19 hai fatto anche addirittura il gol decisivo contro la Turchia ecco vorrei da te una cosa sulla nazionale anche spagnola e più un messaggio ai giovani cosa ti senti di dire? Eh niente è una strada lunga uno deve prenderlo con tranquillità e godersi ogni minuto che possa giocare questo sport a questo sport bellissimo come il calcio e niente con tranquillità e con passione sicuramente qualcuno ce la farà e mi auguro che arrivino in tanti a giocare in Serie A la tua esperienza sull'europeo è stata una cosa bellissima è una cosa bellissima sempre giocare nella nazionale anche se Under 19 Under 17 ho avuto anche la fortuna di giocare l'europeo Under 20 21 è una cosa bellissima quindi spero che tutti di quelli che hanno la possibilità di ancora giocare in quelle categorie che possano sfruttare tanto finiamo qui abbiamo a che fare con due grossi campioni uno per il futuro specialmente sperando tanto la Fiorentina farà parte di noi di tutti si può passare a quelle prime azioni se la adesso vuol venire intanto presentiamo queste con i nostri sponsor anche i Banfi che può venire con queste bellissime targhe come potete vedere ecco i nomi i nomi dietro sono veramente notevoli ecco inoltre ringraziamo anche qui vediamo il Santi Diva che presenterà due oggetti per Borca e per Federico Iesa e un cesto del salomificio Pasquinucci infatti è uno dei salomifici artigianali toscani penso poi che tornerete a prendere queste cose se me lo dite poi me lo porto io ringraziamo allora Borca e Federico Iesa e tutta la Fiorentina e vi salutiamo alla prossima prima azione